salve ragazzi e ragazze come state spero tutto bene oggi siamo già in domenica rilassati fine settimana e volevo fare questo video più che altro per spiegare come utilizzare il canale di youtube sì ne avevo fatto uno all'inizio però è già passato un po di tempo ci ho più di 500 di 500 video allora ho voluto rifare un po il video di come utilizzare il canale perché adesso c'è un altro colore in più c'è quello viola che sarebbe il russo e volevo spiegare come si utilizza un'altra volta per chi non l'avesse visto quel video dai andiamo al nostro canale di youtube che sarebbe lionbull academy in youtube e andiamo un po a spiegare i colori prima di tutto se andiamo alla pagina iniziale di lionbull academy possiamo vedere che abbiamo gli ultimi video che abbiamo messo nel canale ci vengono qua tutti i messi ricordate il viola e il russo il rosso rosso arancione e il inglese l'italiano è quello giallo che è quello che ci interessa a noi e lo spagnolo è quello blu chiaro celeste poi ci abbiamo la seguente lista che sarebbero tutti i video del canale in differenti lingue lo spagnolo italiano inglese russo come potete vedere qua ancora non ci sono tutti i colori messi bene però lo sto facendo piano piano poi abbiamo la lista di canali più visti spagnoli la lista di preferiti sarebbe la nostra playlist lista di riproduzione poi ci abbiamo la lista di riproduzione italiana lo sarebbero le più usate italiane dove potete cercare quello che per esempio ci interessa etf abbiamo una lista di riproduzione di soltanto gli etf poi ci abbiamo una lista di riproduzione soltanto di itoro una lista di come scegliere attivi con wallmind o qualsiasi altro attivo però dello stile wallmind consigli il portafoglio il corso basico scalping c'è un po di tutto poi c'è la lista in inglese la lista in russo il basico in tre lingue per adesso i video popolari e le liste di riproduzioni create schiacciate se volete qua liste di riproduzioni create e vi fa vedere tutte le liste di riproduzioni che abbiamo in differenti lingue per adesso ancora i colori non sono finiti li sto ancora finendo c'è tantissimo lavoro da fare che abbiamo più di 550 video già dentro perciò c'è un po di lavoro da fare lì ma più o meno già si comincia a capire quelli in giallo sarebbero gli italiani o sennò c'è scritto italiano per esempio indicatore italiano indicatore spagnolo perciò si capisce un po qua c'è abbiamo la lista di riproduzioni se volete vedere dei video che non li avete visti ancora la miglior cosa è andare alla lista di riproduzione potete schiacciare per esempio qua lista di riproduzione e poi qua schiacciate dove c'è scritto liste di riproduzioni create schiacci lì e vi usciranno tutte le liste di riproduzioni che abbiamo creato così potete cercare quella che a voi vi interessa vi ho detto c'è tantissimo materiale ve lo consiglio molto di guardare tutti i video perché c'è veramente tanta informazione interessante da vedere altre cose che non sono così tanto interessanti però la maggior parte sono interessanti la comunità ancora non l'ho utilizzata perché sto imparando come si fa non l'ho ancora fatto però lo impareremo presto qua in canali non ho ancora messo nessun altro canale però comincero a far vedere dei canali che io seguo che mi interessano molto e vorrei che li sappiate anche voi poi c'è più informazione dove potete trovare un po' più di informazione sul canale abbiamo già 83.900 visualizzazioni in tempo di un anno faccio molto bene va bene quello dei colori l'avete già capito spero che sia tutto a posto poi se volete ci avete anche la pagina web di lionbull academy lionbull academy.com è più o meno una blog la metto ogni tanto non sempre però l'interessante qua è che ci avete una sezione di notizie sezione degli attivi che più seguo ci avete accesso diretto ai nostri sponsor che sarebbero i link di affiliato che ci ho a Tradeview o a Itoro che potete direttamente iscrivervi da qua e l'obiettivo di 180.000 euro che abbiamo per fare la nostra trading floor che lo faremo appena possiamo e un po' di notizie che metto io ogni tanto è da giugno che si può dire che non ho messo l'ultimo però sì è giugno è l'ultimo no luglio è l'ultimo quello della rivista che abbiamo messo volevo dire che la prossima sionata dovrebbe uscire la seconda rivista di lionbull academy per adesso è soltanto l'inglese perché non ho tempo di fare in altre lingue però più avanti appena riuscirò a fare un po' di tempo tradurrò tutte le riviste che ci ho arretrate anche nelle altre lingue incluso l'italiano e poi ci abbiamo qua metterò un'altra sezione nella pagina web dove potremmo avere accesso anche tutti i video con tutti i loro link separati per lingue perché penso che sarà anche interessante di fare una piccola database un piccolo database per fare un po' capire meglio di poter utilizzare meglio il nostro canale perché per adesso è molto grande e avere quattro lingue nel canale lo so, lo fa diventare un po' difficile da seguire però per quello ho fatto i colori e ho sacrificato i tombale le miniature per farlo più semplici da leggere ho sacrificato in bellezza però così almeno è più semplice da leggere poi se avete qualche idea qualsiasi cosa per migliorarla ancora di più me lo commentate sotto sarei molto disposto a sentire le vostre opinioni e opzioni che potrei avere avviabili penso che sia interessante poi c'è una sezione sociale che ancora sto lavorandoci è il Lion Bull Academy la social network che sto preparando dentro avremo libri corsi in video in tante lingue ci potrebbe parlare di uno o un altro ognuno ha accesso a farsi il suo proprio blog voglio un po' fare una zona sociale che sia migliore possiamo mettere file dentro voglio fare una zona che sia di facile accesso a tutto il materiale che ci avremo disponibile su Lion Bull Academy perché penso che sia molto interessante e voglio avere veramente tutto in un solo posto perché tutti possano accedere rapidamente facilmente a materiale di qualità sto ancora lavorandoci ricordate sono una persona solo lavorando a questo progetto e ci vuole tempo adesso col lavoro che ci ho ci ho pochissimo tempo sto trovando ore dappertutto per poter fare sto lavoro però ci sto lavorando ragazzi per favore avete un po' di pazienza questo canale crescerà tantissimo e spero che possa aiutare a tutti quanti a migliorare e a essere sempre all'ultima sul trading e gli investimenti dai questo era tutto spero vi sia piaciuto il video se vi è piaciuto ricordate di schiacciare il like che ci aiuta molto nell'algoritmo che arrivi a più gente questo canale e questi video che possono aiutare spero che aiutino la gente commentate veramente se sapete un altro modo di poter migliorare ancora di più il nostro canale di youtube perché penso che possiamo ancora migliorarlo tantissimo sì sto lavorando nei colori ancora non ci sono tutti i colori pronti però sto lavorando a quello veramente sono tanti video spagnolo mi sembra che ho già finito adesso comincerò con l'italiano poi faremo l'inglese poi finiremo il russo anche dall'inizio già cominciato con i colori se avete dubbi o qualcosa sul canale me lo commentate sotto se avete idee di come riuscire a monetizzare ancora meglio questo canale per prendere quei soldi e farci riuscire a fare il nostro trading floor che vogliamo fare perché tutti possono fare trading insieme a me insieme a tutti insieme la verità a fare trading di forma gratuita in diretta o via online o in persona che vorrei fare veramente questo progetto c'è un video in giro se guardate trading floor lion bull accadami sicuramente lo trovate e questo era tutto dai ricordate anche di susscrivervi perché aiuta tantissimo a che questo canale sia più visibile a tutta la gente veramente spero che questo progetto cresca ancora di più e vediamo poi in futuro se diventa troppo colossale forse divideremo il canale in differenti canali poi lo vedremo col tempo ma per adesso penso che con un canale solo riusciamo grazie alla sezione colori riusciamo un po' a capirci meglio e alla sessione playlist di fare liste di riproduzione di farlo un po' più accessibile a tutti dai molte grazie un'altra volta spero abbiate capito come funziona se avete dubbi ricordate anche di commentarmelo dai ciao ragazzi ci vediamo dopo ciao ciao a tutti Grazie a tutti.